La tavola rotonda si intitola la gestione dell'incertezza dei pazienti. Abbiamo quattro relatori al tavolo e li chiamo nell'ordine in cui parleranno. Direi che comincio subito col professor Martin Langer, che è il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rienimazione Curia Parlative dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Prego, professore. Bentornati sulla terra. Noi purtroppo ci occupiamo di cose molto più quotidiane che non le scoperte e queste affascinanti prospettive di farmaci prodotti e non venduti per profitto. Cioè credo sia una cosa che difficilmente riusciamo a immaginare. Siamo tutti molto in attesa. Quello che invece credo sia un po' il tema del convegno è l'incertezza che ci attanaglia un po' tutti i giorni da una parte nel nostro lavoro di medici e dall'altra parte nel lavoro di pazienti, che potrebbe essere anche nostro. Credo che il problema da porre, e l'abbiamo fatto anche un po' nel gruppo di lavoro, è l'incertezza. Io credo che l'incertezza prima di tutto ha bisogno di approfondimento da parte del medico. L'incertezza non può essere l'ignoranza. L'incertezza di cui vogliamo parlare è l'incertezza di quello che ha tutte le informazioni, che ha tutto a disposizione. Eppure l'incertezza resta, anzi, in un certo senso l'incertezza aumenta. Perché cosa propongo? Come riesco a pormi al mio paziente, ai miei pazienti? Io faccio l'intensivista, l'anestesista, quindi ho sempre il mio primo interlocutore sull'incertezza è il collega medico, non è neanche il paziente, quindi siamo nel retroscena dell'incertezza. Il paziente che arriva in terapia intensiva ha chiaramente un corolario di altri colleghi medici che sono necessari alla sua cura. E una delle grandi problematiche è riuscire a integrarsi con gli altri colleghi medici e arrivare a delle proposte con minore incertezza possibile. È molto difficile, credo che sia come tanti cuochi messi insieme. E ognuno di noi ragiona con categorie diverse. È vero che facciamo l'incontro collegiale è sicuramente la metodica meno insoddisfacente, diciamo così, per arrivare più vicini possibile, cioè per arrivare a ridurre l'incertezza. E poi dopo chiaramente abbiamo il grande problema di cui anche di questo abbiamo parlato, è di come comunicare la nostra incertezza al paziente o alla famiglia dei pazienti se il paziente non è in grado di esserci a questa discussione. E questo è un problema dove dobbiamo considerare veramente tanti fattori che sono le possibilità reali date dalla condizione. I nostri conflitti di interesse che sono tanti. Cioè l'ospedale ha un conflitto di interesse, il sistema ha un conflitto di interesse. Pensate a tutti i conflitti di interesse che abbiamo tra ospedali, cliniche, privato, pubblico. Ci sono tantissimi conflitti di interesse in cui dobbiamo essere almeno tendenzialmente consapevoli. E quindi proporre, discutere, non proporre, discutere con chi di dovere, paziente o famiglia o tutti i due, le scelte che possiamo proporre con i pro e contro. E sicuramente con una presa di posizione da parte nostra che credo non sarebbe corretto dire assetticamente si può fare A, si può fare B, si può fare C. Ma possiamo dire che A comporta B, probabilmente aggiunge o toglie. Cioè è molto complesso. E forse il problema per noi medici che io sento al momento come più grave è l'incertezza che ci viene dalle nuove terapie. L'oncologia è micidiale al momento perché non sappiamo più, anche gli oncologi, io non so niente di base, ma anche gli oncologi non conoscono più la terapia, la prognosi, perché non sappiamo le nuove terapie cosa portano. E questo al momento porta giustamente credo a sopravvalutare l'efficacia e la probabilità. Cioè quindi le prognosi che sono la cosa che il paziente vuole sapere per davvero, il paziente vuole sapere con questa terapia quanto vivo, come vivo, con quest'altra come vivo, quanto vivo. Da noi per fortuna non deve porsi il problema è quanto spendo. Però io credo che noi ce lo dobbiamo porre. Noi ci dobbiamo porre il problema quanto spendiamo per indirizzare questa terapia. La parola sostenibilità è nell'aria da stamattina. Insomma, tutti hanno detto sì, ma questo non lo affrontiamo, però esiste come problema. Grazie. Grazie, professore. Ora siamo sempre in campo di anestesia e rinimazione. Do la parola al dottor Alberto Giannini, che è responsabile della terapia intensiva pediatrica della fondazione IRCCS Calgranda, ospedale maggiore poliniclinico e clinica dei Marchi di Milano. Ho detto anestesia e rinimazione, in realtà terapia intensiva è un po' diverso, ma insomma siamo lì. Siamo parenti stretti, molto molto stretti, figli gli uni dell'altro, direi fratelli. Allora, in questa giornata io vorrei provare ad aggiungere, per il nostro scambio di idee, al termine, alla parola incertezza a cui vorrei tornare, due altre espressioni che meritano di essere considerate per aggiungere delle tessere al mosaico. Come sempre, tanto più tessere al mosaico, tanto più l'immagine viene messa a fuoco. L'espressione che vorrei citare sono le parole limite e la parola complessità, di cui dobbiamo parlare. Il professor Ferrari ha fatto, peccato che adesso non ci sia, una galoppata strepitosa, affascinante, veramente affascinante, però anche su questa linea di pensiero e di lavoro estremamente rilevante bisogna considerare la dimensione del limite, che sembra una dimensione assente nella prospettiva della cura dell'altro a tutti i livelli, da quello di cura diretta, diciamo, di cura sanitaria e ospedaliera sino alla dimensione della gestione, dell'allocazione delle risorse, qualche volta scompare, o anche nello sguardo della comunità. Spesso i mezzi di comunicazione di massa, i giornali, il mondo dell'informazione, ci presentano una medicina onnipotente con le malattie sconfitte e la morte saldamente imbrigliata. Ma non è così. Chi fa un lavoro come quello del medico sa, come diceva Wiles, che è un medicista della Georgetown University, un americano, che noi viviamo un paradosso e il paradosso è dato dal fatto che, contrariamente a quello che si dice, la realtà in medicina è governata dai limiti. E non c'è contesto come la medicina intensiva per toccare con mano questa dimensione. Proviamo ad aprire questa parola. Cioè, quando io parlo di limite, che cosa intendo? Questo è il mio sguardo, ovviamente, io non sono di Dio e questo non è Vangelo, per cui è veramente una valutazione estremamente soggettiva e pertanto ampiamente criticabile. Proviamo ad aprire questa parola. Vedo almeno tre livelli differenti di significato. C'è un limite di ragionevolezza, c'è un limite di efficacia clinica e direi c'è un limite di senso. Quindi tre piani differenti. E che cosa intendo con questa espressione? Ma con limiti di ragionevolezza dobbiamo intendere il fatto che l'uomo non è in grado di dare sempre e comunque una risposta a qualsiasi bisogno. Che ci piaccia o non ci piaccia, non c'è sempre una risposta di fronte ad un bisogno, di fronte a una domanda. Se dimentichiamo, se accantoniamo, se scotomizziamo questa dimensione entriamo in un sano delirio di onnipotenza, entriamo a vele spiegate nel delirio di onnipotenza. C'è poi un limite di efficacia clinica e cosa intendo con questa espressione? Intendo il fatto che noi siamo in grado, e direi con l'intervento del professor Ferrai l'abbiamo toccato con mano, è veramente entusiasmante, noi siamo in grado di spostare più l'alasticella. Chi fa il reanimatore come noi, questa dimensione nell'arco dei decenni l'ha vissuta in presa diretta. Ecco, noi riusciamo oggi a fare cose che vent'anni fa non era possibile fare. Noi possiamo ridurre la morbidità, contenere la mortalità, ma non possiamo abolire la morte. Nuovamente se dimentichiamo questa dimensione entriamo diritti diritti in un sano e florido delirio di onnipotenza. E poi a mio modo di vedere c'è un limite di senso e con questo intendo dire che tutte le azioni nell'ambito della cura vanno scandagliate alla ricerca di un senso e di una accettabilità anche sul piano etico. Non tutto quello che è possibile fare ha senso che venga fatto, è accettabile sul piano etico. E ovviamente c'è una complessità che noi per primi, come prima generazione stiamo affrontando, nel senso che non i nostri nonni nella professione, ma i nostri padri nella professione non hanno mai incontrato i dilemmi che noi oggi stiamo affrontando. Il professor Ferrari faceva riferimento al tema della sospensione dei supporti vitali. I nostri padri che facevano una medicina poco più che contemplativa, se così si può dire, queste cose non le conoscevano, noi le stiamo affrontando. Credo forse che questo tema andrebbe definito in modo più delicato, più attento, più profondo e vorrei dire anche in modo esplicito quanto sereno che la sospensione dei supporti vitali laddove abbiano dimostrato di non avere proporzionalità è un'azione corretta e doverosa, ad esempio. e che questo genere di scelta nel mondo della medicina intensiva ha un maggior impatto emotivo perché il progredire dalla malattia che porta alla morte comporta un intervallo temporale molto breve, ore, ma il senso, il valore sul piano etico è identico a quando un oncologo interrompe la somministrazione chimioterapici è identico, cambia solo la latenza. E visto che è stato citato la Pontificia Accademia della Vita, vorrei segnalarvi che ci sono documenti magisteriali, ultimamente c'è un bellissimo documento fatto dal Pontificio Consiglio per la Cultura di cui per un strano percorso sono stato chiamato a far parte nel Comitato Scientifico, è stato presentato due anni fa in Senato, dove si parla di relazione di cura e scelte di fine vita, e dove di questo si parla. Bene, ma torniamo a noi e al tema di cui stiamo parlando. Due ultime rapide osservazioni. Una è la complessità. Noi stiamo evocando oggi complessità che esce da tutte le parti. Per me è stato affascinante sentire stamattina un fisico veramente interessante e un economista. Mi hanno offerto degli spunti di riflessione e di conoscenza per me sorprendenti. Ecco, noi abbiamo di fronte una complessità che riguarda il corpo, sistema di sistemi, abbiamo una complessità della malattia, abbiamo una complessità di sistemi di diagnosi cura. Tutto questo rende esponenziale l'incertezza, cioè ce la moltiplica nuovamente i nostri padri, queste cose non potevano toccare, noi stiamo maneggiando una materia nuova, veramente nuova. Per cui dobbiamo convivere con tutto questo e dobbiamo accettare di ragionare anche in questi termini. E torno, come ultima osservazione, al tema incertezza. Non so se qualcuno di voi, tra i colleghi medici presenti, ha letto giusto un anno fa, perché se non ricordo male era all'inizio del novembre del 2016, un position paper fatto dal New England che era intitolato tollerare l'incertezza. Ed era una bellissima riflessione molto breve di due facciate, in cui gli autori, se non ricordo male è di Harvard, ma potrei sbagliare, dicevano dobbiamo confrontarci con la dimensione dell'incertezza. Peccato che, ad esempio, tutto questo faccia fare fatica ai medici, direi anche ai nostri pazienti, che si aspettano da noi certezze granitiche e pensano che ci sia sempre una risposta. E questa dimensione dell'incertezza è vissuta molto male nel percorso universitario. Sono sempre cose dove si parla di bianco e nero, ma in realtà noi spesso abbiamo scale di grigi. Dovremmo parlare più di ipotesi, spesso più che di diagnosi. Quindi di questo noi dovremmo anche parlare nella formazione nelle scuole di medicina e nelle scuole di specialità, tenendo presente un ultimo aspetto di cui non parliamo mai quando formiamo i medici, e cioè che esiste la morte. Nella facoltà di medicina e nella scuola di specialità si parla di tutto tranne che la morte. Peccato che sia un aspetto che ci piaccia o non ci piaccia è intrinseco all'essere vivi. E peccato che parte dei pazienti che noi curiamo non riusciamo a guarire. Quindi dobbiamo riuscire a averne cura anche nel tempo della prossima assenza della morte. Preparare persone, medici, che sono soltanto dei guerrieri, che sanno solo sfoderare la barra da spaziale di Goldrake, di buona memoria, è pericoloso. perché sono persone fragilissime e incapaci ad affrontare il limite e ad accompagnare le persone nel tempo dell'approssimarsi della morte. Grazie dottore. Finale molto immaginifico e Goldrake, è molto chiaro, devo dire. Allora, un terzo iscritto a parlare è il dottor Alain Pampalona, che è managing director della Fondazione Giancarlo IV. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Insomma, dopo, siamo alla fine di una giornata, credo, senz'altro lunga, intensa, per me è anche molto interessante e per degli aspetti non dico destabilizzanti, ma mi ha dato molto da riflettere, spero anche a voi. E tra l'altro, adesso volevo dire, appunto, non vorrei deludervi innanzitutto, anche perché ha parlato dei brodi, quanto è un sentimento difficile da accettare, proponendovi delle certezze che certo non ho e delle ricette. Io volevo fare alcune riflessioni, una parola che era neutra prima che parlasse il professore Ercolani, ma quindi a sto punto faccio alcune riflessioni sulla malattia e sulla relazione medico-paziente in base a degli spunti sentiti oggi. Beh, innanzitutto abbiamo visto che ci sono diversi tipi di incertezza, o che meglio, l'incertezza può essere inquadrata da diverse prospettive. La prospettiva che interessa a me affrontare in questo momento è una prospettiva esistenziale, quindi l'incertezza che ci accomuna tutti, quindi anche qui, presenti, in quanto esseri pensanti il futuro, e quindi l'incertezza esistenziale in quanto esseri umani. il secondo punto che è stato detto nelle varie relazioni è che l'incertezza non ha un'accezione solamente negativa, ma anzi è un'opportunità, è stato lo stimolo per importanti innovazioni, per la scoperta e non solo scientifica. e allora una prima riflessione riguarda ma è possibile questo anche con la malattia? L'incertezza rispetto alla malattia può essere un'opportunità? So che la domanda sembra assurda o comunque paradossale. Non vorrei affrontare il tema appunto se già parlato a lungo di una diagnosi o una prognosi particolare mi riferisco a una malattia grave appunto intesa come una malattia che cambia a prescindere dall'esito quando arriva cambia le prospettive esistenziali di una persona. E allora cosa succede quando una malattia del genere entra nella vita di una persona? Vorrei usare le due metafore del terremoto o dell'uragano l'uragano mi è venuto in mente con Houston e Mauro perché? Perché sono senz'altro eventi determinati ma da fattori così complessi che rendono incerta la loro prevedibilità e quando entra nella vita di una persona malata è come un terremoto appunto fa vacillare un po' tutte le certezze le certezze che abbiamo visto pure con bias effetti di framing e quant'altro tutti ci costruiamo per campare l'idea dello status quo di cui parlava Penati stamattina nel senso l'idea che abbiamo tutti che domani sarà simile ad oggi questo cambia mi riferisco ho ben presente il racconto di tanti pazienti ne abbiamo incontrate migliaia in questi anni è una cosa che mi ha sempre man mano colpito e come questi pazienti si riferiscono al momento della diagnosi con termini molto molto simili tutti cioè parlano di una a proposito di terremoto una tegola che ti cade in testa una mazzata sulla testa certo è che parlano di qualcosa che non è più come prima niente sarà più come prima c'è una chiara cesura tra il passato e quel momento e come immaginano il il futuro evidentemente e il paziente si trova quindi di fronte a una situazione nuova cambiano evidentemente le sue scale le loro scale di di priorità di valori e il medico in questo momento volente o nolente è investito di un ruolo fondamentale sia dal punto di vista pratico che simbolico cosa succede in questa terra di nessuno in questo primo momento noi abbiamo provato a osservare questi momenti ci sono emozioni molto forti il paziente innanzitutto paura paura per quello che non conosce è una situazione completamente nuova il paziente è in apprensione per il proprio futuro evidentemente ha una grande ansia se non disperazione perciò perché la malattia riguarda i suoi affetti la vita privata e quant'altro si sente spersonalizzato si sente spersonalizzato perché è convinto di non poter essere più ciò che è stato fino a quel momento e soprattutto si sente disorientato non sa che cosa fare ora un'altra riflessione che abbiamo fatto spesso è ma queste emozioni e quindi i bisogni corrispondenti da soddisfare hanno a che fare con la terapia devono essere soddisfatti ed è compito del medico soddisfarli evidentemente come intuirete per me e per noi si devono essere soddisfatti ed è compito del medico soddisfarli io adesso come aveva accennato stamattina si è parlato di sostenibilità Martin l'ha appena ripreso vorrei tralasciare questi aspetti seppur importanti nel senso secondo me è necessario soddisfarli perché hanno delle valenze delle conseguenze sia sul piano fisiologico che sul piano economico ma restiamo solo al piano esistenziale come ho accennato dove stavo un altro termine molto in voga in questo periodo è umanizzazione della medicina però cosa si intende per umanizzazione innanzitutto secondo me quindi si intende considerare integralmente la persona malata quindi portatrice di bisogni specifici che hanno bisogno di essere presi in carico e curati ma l'umanizzazione secondo me è un concetto forse non così tanto sviluppato riguarda sia il medico che il paziente quando si parla di umanizzazione della medicina significa portare il rapporto a quella dimensione che abitiamo tutti quindi a quella condizione di incertezza esistenziale che abitiamo entrambi come esseri umani è quindi evidente che se il medico si pone spesso è posto dalle aspettative del paziente si pone in una posizione o esclusivamente in una posizione di colui che è sul posto sapere o dell'illuminare si crea e ne ha già parlato stamattina anche di me si crea una distanza relazionale e se la creazione di questa distanza è umanamente comprensibile abbiamo visto solamente citando Alberto adesso nel senso c'è un senso del limite davvero difficile da accettare quindi questo può fare porre questa distanza non credo che abbia niente a che fare con la professionalità del medico e mi fa piacere adesso Alberto ha citato il New England sull'incertezza però anche grazie a Folco Fecchino che è un grande ricercatore di articoli che ci passa mi fa piacere constatare come già solo nell'ultimo anno ma sempre più spesso riviste appunto del calibro del New England trattano con maggior frequenza temi legati all'incertezza alla centralità della relazione medico-paziente mi fa piacere perché penso che indichi se non un cambiamento di paradigma comunque un cambiamento di attenzione o di immaginario nei confronti del medico e della medicina io volevo citare due articoli del New England ma non vi annoio molto ho fatto solo l'ultima parte di uno prima di concludere è un articolo del 2017 che ci ricorda come dare percentuale probabilità non aiuta i pazienti a gestire la componente emotiva legata alla malattia alle cure e alla vita quotidiana ciò che serve è comprendere le priorità personali del malato le sue convinzioni e i suoi valori per aiutarlo a decidere decidere per davvero ecco prima ho usato la metafora del terremoto perché volevo capire se era possibile una ricostruzione e secondo me la ricostruzione parte proprio da questo punto nel senso che la ricostruzione di una nuova autonomia per il paziente di una nuova capacità di decidere ma decisioni libere autentiche che avvengono solo quando i bisogni relazionali che abbiamo detto prima vengono soddisfatti se no è davvero difficile e in questo percorso il medico è essenziale essendo onesto come abbiamo visto tutta la giornata rispetto ai limiti della conoscenza e mostrando comprensione perché abbiamo sempre detto comprensione emotiva per il desiderio del paziente di abbattere questi limiti che probabilmente è lo stesso desiderio del medico perché anche quando parliamo di numeri e di statistiche se parliamo di una patologia che dà il 25% di morte a 6 mesi presi 100 pazienti neanche il medico sa decidere chi saranno i sommersi e i salvati chi saranno i 25 che moriranno nei 75 che si salveranno e quindi è da questa incertezza comune che si può fondare qualcosa nel senso che l'unica certezza che possiamo dare secondo me è la presenza umana io faccio il caso del futuro poi ho quasi terminato nel senso che nessuno chiede al medico di guardare in una sfera di cristallo e dire l'esito della terapia al paziente però il medico può senz'altro assicurare la sua presenza lungo l'intero percorso di cura comunque vada e quindi torno alla domanda che senz'altro era una domanda strana può essere un'opportunità ma io non lo so non lo dico io però sempre molti dei pazienti che abbiamo incontrato ci hanno detto che la malattia stiamo parlando di malattie gravi prescindendo dall'esito per loro è stata un'opportunità per scoprire o riscoprire valori importanti per vivere più pienamente la loro esistenza e ci abbiamo fatto una ricerca su questo e abbiamo visto che un organizzatore di fondo cos'è che distingueva i pazienti che vedevano la malattia come un'opportunità beh era la loro capacità di dare un senso a questa nuova condizione dare un senso che dipendeva certo da molti fattori però hanno sempre indicato come fattore rilevante la qualità della relazione con il loro medico o i loro medici e per finire abbiamo detto che siamo in una fase nuova della medicina ipertecnologica abbiamo parlato stamattina di Watson entreranno i robot i sistemi esperti l'intelligenza artificiale molto protocollarizzata oggi addirittura si diceva con moltissime linee guida e quindi credo che la ricerca del senso non sia una questione che riguarda solo il paziente ma forse riguarda anche il medico e in fondo credo che la relazione la relazione la riscoperta della relazione possa essere uno dei fattori che ancora dà soddisfazione al medico e prima azzardo a dire può essere il senso ultimo della cura grazie grazie dottor Pappallona chiudiamo la tavola rotonda con l'ultimo intervento previsto del dottor Michele Oldani sociologo sicanalista docente di psicologia dell'Università di Brera Milano e che fa parte anche del comitato scientifico della fondazione Giancarlo IV prego dottore allora buongiorno a tutti voi mi perdonerete se io riprenderò a volare alto non per competizione con Ferrari la lotta non inizia neanche ma perché penso che ci possa essere utile allora andrò oltre il Vaticano prima del Vaticano nel Pantheon Greco Pantheon Greco che contempla due figure che dopo Apollo rappresentano i padri della cura Chirone e Asclepio brevemente la storia di questi due soggetti perché è interessante e ci dà qualche spunto Chirone è un centauro metà uomo metà cavallo primo elemento di incertezza i centauri non brillano per intelligenza ma Chirone sì esperto di arti di scienze e di cura alla sua corte finiscono molti eroi greci Eracle Nea Teseo Achille forse Ulisse e lo stesso Asclepio succede che lui insegna l'arte della cura ma a un certo punto un suo amico discepolo che è Eracle nelle sue peregrinazioni entra in contrasto con i centauri e fa una lotta e tira le frecce come si usava ai tempi e una freccia avvelenata col sangue dell'idra di Lerna che era un mostro marino un drago colpisce per sfortuna proprio Chirone il suo maestro quindi l'amico discepolo diventa nemico altra contraddizione altra incertezza e qui c'è la terza incertezza più grande che è quella che è ferito da questo sangue primitivo arcaico Chirone si strugge all'interno di una contraddizione ultima che è questa lui è immortale non può morire però è lacerato da un dolore infinito per cui anche le sue cure non funzionano dovrebbe permanere in quella dimensione allora chiede aiuto a Zeus e baratta la mortalità cedendo la propria immortalità a Prometeo diventa uomo e può finalmente morire pensate quante contraddizioni quante incertezze ci sono in questa vita non diversa è la vita di Asclepio Asclepio nasce da un'avventuretta di Apollo con una che gli piaceva che si chiama Coronide che era umana figlia di un re e la Coronide rimane incinta ma vuole sposare un altro che è legittimo ma non per Apollo e allora Apollo si arrabbia e adotta un sistema pratico un femminicidio dall'ora che la brucia ma mentre la brucia salva il piccolino che è Asclepio quindi Asclepio nasce dalla morte della madre che è un tema mitologico ricorrente cui prima contraddizione prima incertezza si nasce dalla morte Asclepio va alla corte alla scuola di Chirone e impara l'arte della cura e viene aiutato dal possesso che viene fornito da Demetra di un altro sangue di un altro essere mitologico particolare che era Medusa una delle gorgoni con lei che pietrificava l'altro che è un essere mitologico assolutamente ambivalente incerto maschile femminile che portava il bene portava il male uccideva e salvava eccetera quindi lui entra in possesso di questo sangue che attenzione nella sua componente delle vene di sinistra uccideva e nella componente delle vene di destra il sangue di destra guariva Asclepio quindi salva tante vite fa anche risuscitare i morti ma anche lì questa condizione d'esta preoccupazione in alto e Zeus adottando lo stesso sistema lo incenerisce quindi anche lui muore allora questi questi primi curanti e raccontano la mitologia portano qualche elemento che è stranamente ripetuto nel racconto il primo è il sangue sono in possesso di un sangue arcaico che è quello dei draghi dei mostri marini eccetera la seconda cosa è l'incertezza in cui si svolge la narrazione della loro vita sono strutturalmente incerti sono costretti all'incertezza e il terzo elemento è che devono morire alla loro professione Zeus che incenerisce eccetera allora questi tre elementi dovrebbero portare un significato ed alcuni sono stati interpretati come l'ambivalenza del farmacon si è stato detto anche questa mattina il farmaco è il rimedio che uccide ma anche il veleno che guarisce quindi sarebbe il sangue arcaico che porta alla contraddizione tra vita e morte ma mi verrebbe da pensare qui entro di più nel mio campo che la contraddizione è più ampia e riguarda la figura stessa del curante allora chi è il curante che cosa fa è un soggetto se prendiamo la metafora della mitologia che è in possesso di un sangue arcaico che vive costantemente nell'incertezza nel connubio incertezza certezza e che a questa dimensione deve morire ecco deve morire simbolicamente tranquilli allora questo significherebbe che il curante ciò cioè colui l'individuo che come voi come noi è si costringe si costringe a vivere la propria vita nella visione dell'incertezza tra vita e morte non è estraneo a questa dimensione cioè il curante è ontologicamente legato all'incertezza ogni essere umano vive costantemente nella relazione inconsapevole tra certezza e incertezza nel senso che la sua coscienza lo porterebbe a pensare di avere sempre una certezza dalla sua ma è come se il curante portasse alla luce questa incertezza la propagandasse la propugnasse essendo costringendosi ad osservarla perennemente nella figura di chi è curato il curato quindi riprendo una questione di stamattina diventa lo specchio del curante non solo il curante specchio del curato capite c'è una differenza quindi il curante vive vuole vivere nell'incertezza e in questa vita portata nell'incertezza vuole insegnare qualcosa a tutti ma anche a se stesso ha bisogno di stare nella relazione con chi è curato allora il curante come l'artista perché tale è costretto a vivere nella contraddizione e attraverso questa contraddizione esprime qualche cosa che lo fa diventare essere creativo per il mondo e per la collettività fosse così ma io penso che sia così perché altrimenti qualcuno mi spieghi chi costringe un soggetto a vivere in certe condizioni avendo sempre di fronte a sé il male la morte il pericolo la contraddizione e le critiche delle persone le lamentere delle persone allora ci deve essere un motivo per cui questo avviene consapevolmente o non consapevolmente ma se il curante è il portatore dell'incertezza oppure della permanenza nel dualismo certezza e incertezza la filiera della cura è una filiera che si svolge tutta l'insegna dell'incertezza perché il farmaco è stato detto e io ho ripetuto è contraddittorio e incerto cura e uccide il curato è l'incerto per eccellenza colui che finisce in una dimensione di stazionamento nella paura della morte allora questo che cosa produce produce che rimanendo nell'incertezza totale relativa alla perdita della vita quindi della certezza il curato tende a proiettare sul curante e sulla cura cioè sul farmaco tutte le proprie certezze anche se dovrebbe e noi lo sappiamo appropriarsi o riappropriarsi di una certa dose di soggettivazione della cura eppure la paura lo costringe a proiettare la proiezione sul farmaco è straordinaria ad esempio a proposito dell'effetto placebo soltanto se un soggetto proietta su un farmaco la cura riesce poi a far sì che questo lo guarisca o plachi il proprio dolore anche se non è una cura ma ancora di più proietta la certezza sulla figura del curante ora il curante si ritrova ad essere in una condizione potenziale proiettata di onnipotenza come diceva Giannini se assume questa posizione cioè si prende tutta la certezza della cura che cosa produce al di là dell'onnipotenza che schiaccia il curato nella posizione di oggetto cioè di paziente nel senso che diventa il soggetto che patisce la cura questo sarebbe già un privare l'oggetto di cura della sua risorsa soggettiva cioè quei brandelli di certezza che si perdono nel momento della malattia ma oltre a questo crea una contraddizione a se stesso perché nel momento in cui si identifica con la certezza quindi con la potenza non è più a contatto con la dimensione della incertezza che contraddistingue il suo essere allora il problema è questo siamo tutti dentro una dimensione dell'incertezza ma quello che si si dibatteva anche nel gruppo oggi che sentivo era ma come fa il curante a portare l'incertezza oltre che la certezza al curato se portasse solo la certezza abbiamo visto che cosa succede se portasse solo l'incertezza sarebbe un disastro perché esautore il curato della propria voglia di trovare certezza nel curante allora come fa forse una risposta minimale qui mi abbasso molto ovviamente minimale è il colloquio è la domanda ora la domanda ripristita un circuito totalmente differente ma badate bene non è la domanda dell'anamnesi non è la domanda del protocollo non è come ti chiami chi sei che lavoro fai eccetera è la domanda sulla vita come veniva detto ma una domanda formulata in modo empatico se io chiedo a un curato a che squadra tieni e io dico a che squadra tengo apparentemente faccio un lavoro banale che esce dal circuito dell'indagine in realtà attraverso quelle informazioni ottengo tantissimo dell'essere in questione ma soprattutto quella domanda genera nel curato la certezza che la propria vita abbia un valore cosa che perde nel momento in cui si sente oggetto di anamnesi e pone il curante nella posizione di ascoltare qualche cosa che lui non sa questo il paziente lo sente quando il curante fa la domanda che lo espropria lo esternalizza alla propria competenza al circolo delle proprie conoscenze si espone alla novità della risposta e quindi manifesta la propria insicurezza e va verso il paziente il curato il curato si sente ritrovato nella propria certezza dell'esistere quindi a me verrebbe da dire che almeno da questo punto di vista la risposta non è così complessa se andiamo al di fuori dello schema nella relazione col curato l'arte della cura è tale nel momento in cui ciascun curante trova l'esatto equilibrio soggettivo non oggettivo soggettivo tra insicurezza e sicurezza tra competenza di ciò che ha conosciuto e che non può dimenticare la scienza e la curiosità che la propria incertezza porta verso l'oggetto della propria incertezza per creare qualcosa di nuovo quindi arte cura come dicevo un libro della fondazione quarta è il momento del ritrovare un percorso assolutamente soggettivo e creativo grazie grazie professore allora prima di aprire la discussione libera vorrei chiedere al dottor Parvis a nome degli altri coordinatori dei gruppi se c'è qualche spunto particolare che è uscito e che vogliamo come dire dare come spunto per la discussione proprio due minuti con una sintesi che tiene conto del lavoro dei gruppi direi facendo la sintesi che l'approccio alla tema è stato equilibrato con vari vari tipi di apporti un aspetto di contesto generale è stato quello del commentare l'ospedale che è diventato azienda con un po' di burocrazia un'informatica che funziona e non funziona con i tempi che si sono ristretti e con un pubblico di pazienti molto diversificato per ragioni anche diciamo di storia recente parlo della popolazione diciamo multietnica che richiede attenzione richiede interpreti qualche volta sicuramente richiede tempo quindi questo è l'aspetto di contesto il tempo che manca ai professionisti ai professionisti un altro spunto che hanno portato è quello del riflettere sui colleghi i rapporti con i colleghi la comunicazione con i colleghi qualcuno ha detto che già nell'ambito universitario sarebbe utile preparare i giovani futuri medici a questo aspetto in modo tale che loro stessi si trovino poi a ridurre l'ansia grazie nel tempo a una conoscenza reciproca migliore a un lavoro in team a una cross fertilization quindi allo scambio di esperienze alla condivisione di successi e anche di problemi in questo caso almeno nel mio gruppo alcuni colleghi alcuni partecipanti psichiatri hanno fatto proprio citato la loro esperienza altri colleghi ci chiedono un supporto per condividere qualche caso per avere un suggerimento ma non dal punto di vista strettamente psichiatrico quanto da un punto di vista proprio della comunicazione dell'ascolto del ridurre l'ansia e quindi l'incertezza ma arrivo alla fine parlando però come hanno fatto i partecipanti dei pazienti che sono sicuramente stati diciamo al centro delle riflessioni e questo il suggerimento alcuni suggerimenti fanno riferimento alla propria personale esperienza e alla seniority nella professione medica che di fatto tende a ridurre la propria incertezza perché alla fin fine si parla e si ascolta con grande attenzione si parla in maniera più sincera o comunque sincera l'ansia viene ridotta dal fatto che ci si pone dei limiti professionalmente diciamo costruiti nel tempo si è parlato di praticare un'umiltà intelligente quindi non semplicemente così uno slogan ma un fatto deciso un approccio razionale un approccio professionale e infine più in generale ancora qualcuno ha riassunto il concetto dell'ascolto attivo e cioè che dai pazienti si impara moltissimo grazie grazie provo anch'io a chiudere volando parecchio alto quindi probabilmente mi schianterò come Icaro ma comunque ci provo cercando di tirare un po' i fili in qualche modo concettuale di quello che ho sentito da stamattina parto però da stasera parto dal dottor Giannini che ha parlato di morte e riprendo il dottor Pampallona che ha sottolineato la necessità dell'umanizzazione la cosa mi ha colpito in qualche modo perché sia morte che umanizzazione si rifanno alla parola uomo che viene da humus terra e quindi è ciò dove dovremo tornare però è vero anche che Adamo il primo uomo viene dalla radice Adam che in ebraico è ancora vuol dire terra quindi da lì veniamo e da lì torniamo e allora è un problema veniamo da lì torniamo da lì e in mezzo cosa c'è secondo il professor Penati c'è un comportamento sostanzialmente istintuale almeno in economia però insomma l'economia può essere specchio di tutto sarà davvero così è così sicuramente però c'è un piccolo problema che mi sembra di cogliere che probabilmente l'uomo è l'unico animale per quel che ne sappiamo che ha coscienza di dover morire allora l'istinto basta avendo coscienza di dover morire ma sì forse sì forse no forse proprio questo però che porta alla necessità al desiderio di stabilire relazioni e come si stabilisce la relazione si stabilisce con la parola e qua riprendo la nostra gag con il filosofo di stamattina problema proballo ma anche paraballo la relazione si stabilisce con la parola ma che senso ha la parola e che contenuto ha la parola se non è preceduta dall'ascolto ed eccoci il professore Oldani senza ascolto si hanno dei comportamenti assurdi cioè da sordo absurdo dal latino absurdo dal latino se io non ascolto non sento non so di cosa si parla dico sciocchezze mi comporto in modo assurdo quindi l'ascolto è la premessa per dire parole sensate e stabilire una relazione ovviamente col medico tra medico e paziente ma non solo e qua visto che si vuole alto 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 a questo punto oso molto però molto come dire con circospezione chiedendo scusa e anch'io pur non appartenendo alla pontificia accademia della vita cito una cosa che mi ha colpito nel Vangelo di Luca che è la guarigione dell'epilettico c'è un episodio abbastanza interessante l'epilettico viene guarito Gesù prima di guarirlo gli pone un dito nell'orecchio e dice e fatà che significa apriti e poi viene scritto e la sua lingua si sciolse cosa significa che è l'ascolto l'apertura all'ascolto che può generare una parola che abbia senso evidentemente quindi l'ascolto su cui il professor Roldani insisteva l'ascolto attivo l'attenzione è quello che genera le parole giuste sensate e la relazione produttiva questo vale anche per me perché oggi vi ho ascoltato ho imparato molte cose e probabilmente dirò qualche sciacchezza in meno quando parlerò di questo argomento grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti